Ciao a tutti, questo video per rispondere a una domanda di una follower che mi dice tornerò con il mio ex dal quale ho avuto una figlia ovviamente chi avesse una domanda simile può comunque seguire il video mescoliamo le carte, nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale, felicità benessere, di cui ti posto i link in descrizione allora mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e il numero che mi viene spontaneo scegliere da 1 a 9 e 4, 1, 2, 3 e 4 allora, beh, diciamo che tu rappresenti una persona solida e questo è già importante come inizio vediamo, 1, 2, 3, 4 qua è prevista, diciamo, un'unione molto forte che c'è stata con questa persona che potrebbe essere recuperata 1, 2, 3, 4 hai la forza, diciamo, per raggiungere questo obiettivo sia il tuo obiettivo 1, 2, 3 e 4 ma comunque ci saranno dei cambiamenti sostanziali probabilmente rispetto alla relazione iniziale quindi rappresenta una relazione molto solida che potrebbe riconsolidarsi vediamo il divenire 1, 2, 3, 4 diciamo che avrai giustizia sulla base di quelle che sono le tue aspettative 1, 2, 3 e 4 anche se hai a che fare con una persona che adesso lavora un po' nel torbido quindi è possibile che ci siano altre situazioni sotto diciamo, altre relazioni cioè non è una persona che si manifesta palesemente per quello che è 1, 2, 3, 4 soprattutto perché hai a che fare con una persona un po' con la testa tra le nuvole poco efficiente, diciamo così nel definire quello che vuole cioè uno che non sa tanto quello che vuole 1, 2, 3, 4 e quindi a insistere allora ci sono tutte le possibilità ma non bisogna insistere molto perché si potrebbe perdere tempo diciamo che la situazione pregressa era molto più solida rispetto al divenire il divenire è molto molto incerto quindi le possibilità che si crea una relazione stabile nuovamente sono veramente non molte il rischio è di perdere tempo quindi guardati oltre cioè nel senso non buttare via questa possibilità ma nel frattempo cercane altre situazioni non giocarti tutto su questa perché potrebbe non andare in porto vediamo la sintesi 1, 2, 3 e 4 la sintesi è che comunque hai a che fare con una persona che in questo momento è alla ricerca di se stessa non è alla ricerca di una relazione di coppia quindi il percorso lo vedo complicato nell'immediato in un futuro potrebbe anche essere ma l'importante è non diciamo accanirsi solo su questa situazione per questo video è tutto seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi iscriviti al canale iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione ciao a tutti grazie grazie grazie